La crisi di governo, le dimissioni di Draghi, le elezioni fissate al 25 settembre. E' questa la tempesta perfetta che fa rituffare la politica in due inattesi mesi di campagna elettorale. Una campagna che, declinata alle latitudini marchigiane, comporterà posti ridotti in Parlamento rispetto al passato e poltroni istituzionali occupate ma che potrebbero essere abbandonate per ambizioni di Camera e Senato. Sul primo argomento il taglio drastico del numero dei parlamentari deliberato a fine 2020 riduce da 24 a 15 i parlamentari elegibili dalle Marche rispetto al passato, ovvero 5 al Senato e 10 alla Camera dei Deputati. L'appeal romano potrebbe avere ripercussioni sulla giunta a Quaroli, visto che nomi come quelli degli assessori Mirco Carloni e Guido Castelli sembrano attirati da una strada che sarebbe solo anticipata rispetto a qualche infatuazione futura. Discorso simile per Giorgia Latini, che già fu parlamentare in passato. Un'elezione comporterebbe uno scossone all'establishment della giunta a Quaroli che, nel caso, potrebbe essere intenzionato a non riaccogliere gli eventuali candidati non eletti. Ma le inattese di missioni di Draghi potrebbero far rivedere anche i piani di Matteo Ricci, che sta entrando nell'autunno del suo doppio mandato da sindaco e che, una volta consultati i vertici del PD, potrebbe, condizionale d'obbligo, intraprendere una clamorosa deviazione dalla fascia tricolore. Se ne saprà di più nelle prossime settimane, che seguono giorni in cui Ricci ha enfatizzato la drammaticità della caduta del governo Draghi. Forse alcuni non si rendono conto che è stato buttato giù per motivi politici di bassissimo livello il migliore che in questo momento in Italia potevamo mettere in campo. Quello che ci aveva garantito autorevolezza e forza in Europa e nel mondo in una fase geopolitica complicatissima, con una guerra nel cuore dell'Europa. Voglio vedere adesso chi va a lavorare per abbassare il prezzo del gas, chi avrà in Europa la forza che aveva Draghi. Davvero un disastro per l'Italia. Purtroppo però ci sono state forze politiche che hanno nome e cognome, che hanno fatto prevalere stupidi interessi di parte rispetto all'interesse dell'Italia. Spero che gli italiani si ricordino quando sarà l'ora di andare a votare, perché ieri ha perso l'Italia, ha perso l'Italia responsabile e ha vinto la politica di bassa lega che ha in qualche modo giocato sulla pelle della figura migliore che l'Italia poteva mettere in campo.